Musica Perfetto signori eccoci qua nella prima corsa di oggi Siamo nella laguna Delfino, la lobby è già praticamente piena C'è solamente forse una posizione occupata da un personaggio guidato dal computer Perfetto sono molto contento che siate tutti collegati e carichi per il torneo Intanto sono già stato preso da qualcosa non ho capito cosa Mi sono mangiato Luigi o Giuseppe lì davanti Perfetto preso ok involontariamente l'ho preso Sfruttiamo ok ho sfruttato tutti i tubi Adesso sfruttiamo la murena che c'è qua Attenzione a non finire sotto ok ho evitato una bomba Ah delle fiammelle poi mi hanno preso con il boomerang Mi hanno preso con il boomerang Power up Monetine ne ho pochissime devo recuperarne un po' Ok un guscio Lemmy si è elevato dalle scatole Lui è l'unico personaggio guidato dal PC Mamma mia ho evitato il mio stesso guscio Qua davanti c'ho Simone Perfetto power up Ok non vedo più niente Guscio rosso lanciato proprio a casaccio Ho preso SP Yoshi Allora sto inseguendo Guglielmo qua davanti No ok per un pelo ragazzi per un pelo Ho rischiato di finire sotto Ok monetina no il guscio rosso no Eh buonanotte ho recuperato una monetina Ne ho perse 20 Ah altro guscio rosso eh non posso evitarlo come caspita faccio E invece no 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 Ok ne ho evitati due incredibile Probabilmente chi era dietro di me ne aveva tre a disposizione Vai 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 di funghetto dorato Vai di funghetto dorato SP Yoshi e Guglielmo Ok dai che sono riuscito a sfruttare comunque abbastanza bene il guscio dorato Il fungo dorato No è ok Sono riuscito a prendere il power up Non riuscivo a capire dove voleva andare Guglielmo Qualcuno mi ha preso con qualcosa Non ho capito cosa Ok c'è Lemmy qua davanti Ho abbassato la difficoltà della CPU ragazzi Perché l'altra volta veramente erano sempre in mezzo a rompere le scatole La CPU qua deve solo fare da contorno alle nostre gare Lemmy ci ha riprovato Ci ha rimprovato di nuovo Ho evitato un altro guscio verde incredibile Ok vai 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 Dammi un altro power up buono Magari un altro funghetto dorato va più che bene Beh i tre funghetti così vanno bene Vai vai Ok manca pochissimo il traguardo Ok ce l'ho fatta Mamma mia quinta posizione Ho rischiato alla fine Perfetto signori Gara terminata Vediamo la classifica finale Super Nico vince Poi arriva SP Yoshi secondo E terzo Guglielmo Poi tutti gli altri Perfetto signori Seconda corsa di oggi Partiamo dalla quinta posizione Circuito di Mario Speriamo di migliorare la posizione precedente Che ho raggiunto nello scorso Gran premio Ok strettissimi Mamma mia mi avete sverniciato tutti quanti Sono finito dietro Beh ho tempo di prendere almeno un power up però Ok lì davanti vedo che vi state bastonando Ok Una bella banana là davanti Basta non finirci sopra poi Ok Sfruttiamo la scia Sono dietro a Inca Alex Altra scia No sono Accidenti ho rischiato di Mi sono piantato incredibilmente Qualcuno deve aver lanciato qualcosa Infatti Super Nico deve essersi piantato C'è Gabri là davanti O almeno Davanti a me c'era Gabri Però per il momento adesso sono finito dietro di nuovo Eh siamo tutti in gruppo Siamo tutti in gruppo non è facile Ok fiammelle Devo riprendere i funghetti Non i funghetti solo Devo riprendere anche Le monetine Qua qualcuno ha tagliato Ok Attenzione la banana evitata per un soffio Bello questo circuito Mi piace tantissimo Vai che faccio una strage qua davanti Ok ho preso un po' di gente Vedo roba esplodere là davanti Ok Che che ho qua di fianco Con la mia stessa auto Ah non mi mostra il nome Non mi mostra il nome signori Niente non posso dirvelo Perché non lo so Mamma mia Che duello Che duello signori Che duello Ok facciamo una roba Facciamo una roba No è già finito l'effetto Ok no Ho mancato l'ultimo power up Non ho nulla con cui difendermi Che caspita è successo a quel Guscio rosso È esploso Ok sono finito dietro Purtroppo non ho power up da utilizzare Però c'è il guscio rosso Che è esploso Praticamente probabilmente Sapete perché? Perché è arrivato quello verde Da sinistra Ah ecco GG6 Ecco chi è che ha il mio stesso veicolo Vince Gabri SP Yoshi secondo Simo Meris terzo Beh almeno Mi ha salvato da un guscio rosso Purtroppo sono finito indietro Però parte di questo risultato È stato determinato dal fatto Che non ho preso l'ultimo power up Perfetto signori Terza corsa di oggi Non poteva mancare il monte Wario Mi manca un po' l'aeroporto del sole Che è da un po' che non esce Speriamo che esca Beh che la scelta qui era Monte Wario Oppure riviera di Todd Non mi ricordo più in che torneo Ma la riviera di Todd Mi pare che in un torneo Addirittura l'abbiamo giocata Quattro volte forse Qualcosa del genere Ok Wow che salto Che salto signori Che salto E mi porto subito in quarta posizione Strettissimo No 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 Ok Qui si rischia sempre di finire sotto Dobbiamo stare attenti a queste prime fasi Perché siamo tutti molto molto vicini Tutti molto molto vicini Qui so che oramai Tagliate tutti quanti Quindi taglio anch'io E sono pure riuscito a prendere un power up Aia Ci mancava solo quella Dai che prendo qualcuno Dai che prendo qualcuno Non ho preso nessuno mai Non ho preso nessuno mai Per il momento sono settimo Super Nico che mi ha appena risuperato Ok Buono Scendiamo Ah ho mancato quello Ho mancato quello Non manco questo però No troppo stretto Troppo stretto Che errore da nabbo qua Che errore da nabbo ragazzi Che errore da nabbo Eh ho perso contatto con i primi Ho perso contatto con i primi Usiamo il funghetto dorato però Purtroppo Ho perso contatto con i primi Chi caspita è passato Ma era così Era il guscio spinato forse Tanto Inca Alex mi ha superato Eh ero minuscolo Ok c'è Lemmy Che è sempre il personaggio guidato dal computer Dammi un bel pallottolo Bill Che dà un po' di tornei Che non esce più Eccolo L'ho chiamato ragazzi L'ho chiamato Perfetto Vai Grandissimo Non Ok Buono Dai che mi sono rifatto sotto Mi è uscito No no Caspita per un pelo Per un pelo signori Per un pelo C'era SP Yoshi Con la stellina Per fortuna sono riuscito a evitarlo Ok Funghetto Mamma mia Il pallottolo Bill Mi ha abbastanza salvato la gara Per il momento Per il momento Non cantiamo ancora vittoria Perché non è ancora finita Uh l'otto 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 Ho usato tutto quello che avevo a disposizione Mi sa che però davanti non ci arrivo Oddio Quarta posizione va più che bene comunque Quarta posizione va più che bene Per come si erano messe le cose Va bene ragazzi Quarta posizione Medaglia di legno Vince Guglielmo Secondo Simo E terzo Super Nico Poi tutti gli altri naturalmente Questa è la classifica generale parziale Ho già da recuperare un bel po' di punti Per arrivare almeno sul podio Perfetto signori Quarta Corsa Mi sembra che siamo nel deserto di Tartosso Partiamo dalla quarta posizione Abbiamo portato a casa un buon risultato Caspita mi sono dimenticato di accelerare Abbiamo portato a casa dicevo Un buon risultato Sul circuito del monte Wario Purtroppo qua adesso non ho Power up Ah ma che si Bastonino là davanti Io intanto poi recupero dopo Perfetto Buone buone S Vai passiamo larghi qua Ho bisogno adesso però di un power up Perché non posso continuare a non prenderne neanche uno Funghetti Questo qua è un circuito che secondo me Mamma mia ho evitato Una pianta carnivora per un pelo Che si può giocare bene Solamente a 150 cc o meno Perché A 200 secondo me è un po' difficile Ok tagliamo Magari evitando di piantarci proprio sulle rocce Ok vedo che altri hanno fatto La mia stessa scelta Di tagliare il tracciato Qui ho Yoshi che continua A darmi spintoni Ok ho preso qualcuno Poi ho sbagliato la derapata Te pareva Te pareva Ah brutta gara Brutta gara signori Brutta gara Siamo finiti indietro Ok Attenzione alla pianta Ecco ci mancava solo quella Ci mancava solo quella E vai Ok ho evitato incredibilmente un guscio verde Qua mi sono Piantato contro Qualunque bordo che c'era Ok stellina La usiamo subito 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 Ok Eh sono sempre indietro Sono sempre indietro Mi servirebbe un altro bel pallottolo Bill No Beh i funghetti vanno bene I funghetti vanno bene Ok Perfetto Qualcosina ho recuperato Si parla comunque di una o due posizioni massimo Me ne vado di qua Ok Sesta Buono Dammi qualcosa di buono Ho evitato una banana Ne ho tre o quattro lì davanti Eh potevo aspettare ancora un attimo forse Potevo aspettare ancora un attimo Ecco Te pareva Ci mancava solo quello Aaaaaa Se non c'era quella tartaruga scheletrica in mezzo Vabbè Dai Settima posizione Diciamo che Sono arrivato a metà classifica Eh per come si erano messe le cose Va più che bene Vince Super Nico Secondo Fabiz E terzo Gabri Poi tutti gli altri Perfetto La CPU fa solo da contorno In questo caso Ok Dai Qualcosina ho recuperato Sono quinto in classifica Però Il terzo posto è lontano Perfetto signori Quinta Corsa di oggi Siamo nel castello di Bowser Partiamo dalla seconda fila Perché siamo arrivati settimi prima Ok Bella partenza Stavolta finalmente sono riuscito a ingranare Giusto Purtroppo però Senza power up No Devo dirvi la verità La 150cc La trovo Molto più interessante Come modalità Rispetto alla 200 La 200 Va bene Su alcuni tracciati Però non su tutti Invece la 150 Va benissimo Su tutti quanti Guscio rosso Ok Ah Però GG6 Mi ha preso lo stesso Perché aveva la piantina Accidenti Aveva la piantina Mamma mia C'è Simo lì davanti Ok È arrivato Super Mami No Caspita Mi ha fatto la finta È andato a sinistra E poi mi ha rubato il power up a destra È che magari riesco ad appoggiarmi a Super Mami Ma va Magari Magari Signori Magari No Ste cose Però no Ok Qualcuno ha preso la stellina Là Sono sesto C'è Super Mami Che prova a darmi delle sportellate Però Non riesce a mandarmi sul laser E io prendo il pallottolo Bill Dai 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 Ok Mi ha abbandonato In un buon momento Me ne vado di qua Tanto Bowser Prima che arrivo Tirerà su il pugno Sicuramente Buono Che caspita ho fatto Boh Probabilmente c'era un saltino E sono riuscito a evitarlo No Ok Per fortuna Mi ha colpito Un attimo Prima che prendessi il power up Ok Ho preso SP Yoshi Sono quarto Ok Ho evitato la zona scura Ecco Appena detto Simo è tornato su Chissà che cosa ha preso di power up Per recuperare così tanto Laser sfiorato di nuovo Ok Ah vado Eh buonanotte Mi hanno buttato addosso al bordo E tanti saluti Arrivederci Purtroppo oggi Arrivare sul podio La vedo dura A meno che non mi capiti qualcosa di buono Ok Buono Eh Il funghetto singolo va bene Ma non basta No No dai Pensavo di essere riuscito a evitarlo Ah sto Bowser Sempre all'ultimo giro Mi capitano ste cose Sempre all'ultimo giro Così non ho più tempo neanche per recuperare Mi tocca accontentarmi sempre Niente Siamo a metà classifica Oggi ho fatto l'abbonamento Per la settima posizione A questo punto tagliamo tutto Tanto È anche il mio avversario alla stellina Il fulmine non mi fa nulla Per fortuna E arrivo settimo Dimmi settimo ti prego Dimmi settimo Sì Settima posizione Va bene Peccato per quel pugno di Bowser Magari potevo arrivare anche quarto o quinto Il podio no Erano troppo distanti ragazzi Andavano troppo forti davanti Super Nico vince Secondo Guglielmo E terzo Fabis Io sono sempre lì Questa qui la classifica generale parziale Il terzo posto è distantissimo Posso al massimo Bambire al quarto Per il momento Se non comincio a ingranare vittorie Perfetto signori Torniamo in mezzo alle nevi Del monte Wario Posso riscattarmi E magari tentare un podio Beh che prima comunque è andata bene Sono arrivato quarto Ed è andata più che bene Perfetto Voilà Ok Sono finito indietro Datemi un power up Ma va Magari Magari signori Magari Ok Buono Prendiamo la stretta qua Ok Va bene L'ho comunque dipinta abbastanza bene Ok Qua A meno che qualcuno Non abbia tenuto dei power up Non c'è possibilità Vedo che tagliate praticamente Tutti quanti Mamma mia Qua ho rischiato Signori Ho rischiato Tantissimo Ok Ho usato subito il funghetto Gabri qua davanti Qualcuno mi ha preso con qualcosa Non ho visto con cosa Però Buono Andiamo giù Bassi Questo qua lo prendo Questo qua lo prendo Invece no Qui prima ho sbagliato Perché avevo stretto troppo Ok Stavolta ho fatto giusto Ma non ho fatto il saltino Questo Vai Vai Eh non ne becco neanche uno Ok Vai Evitiamo il guscio verde Perfetto Ok S veloci Perfetto Siamo settimi Evitiamo di prendere una pianta in faccia Dammi un bel pallotto lo build Dai Prima mi è andata bene Che l'ho chiamato E mi ha dato i funghetti Direi di aspettare un attimo Però a usarli Se magari non mi fate andare addosso le piante Grazie Ok Buono Eh no però Dai Sono passato Dove non c'era più il power up Ok Becco scia Destra manca Oddio ci siamo schiantati tutti quanti Siamo arrivati troppo forte No Brutta gara signori Brutta gara Decima posizione Siamo molto indietro Molto 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 indietro Ok Però Qualcosa di buono mi è arrivato Lo stesso Siamo vicinissimi Se mi arriva il pallotto lo build Ragazzi qua Eh vabbè No niente Devo terminare la gara senza power up Quindi arriverò dietro A meno che davanti non si bastonino Anzi c'è il rischio che mi bastonino ancora da dietro Eh che bello E vai Niente Penultimo Wow Fantastico Eh ma senza power up Niente da fare Superniko vince Secondo Fabiz Terzo Luca Qui ragazzi Ho buttato via una marea di punti Ho veramente Guardate come sono crollato in classifica Purtroppo ho mancato l'ultimo power up Però Ed è stato fatale Ciao